Siamo con Luna, 10 anni! Come ti senti? Emozionata. E come mai scegli di fare teatro? Boh, perché è una cosa che mi piace molto, recitare. E quando hai imparato e quando hai sentito più che altro la prima volta questo impulso? Boh, quando hanno detto se volevo recitare. E quindi hai cominciato così. E ora ti sei appassionata? Sì, molto. Che classe fai? La quinta. E come riesci a conciliare lo studio con le prove? Ce la fai e va? Sì, perché tanto è alla sera e quindi io faccio i compiti di pomeriggio. Ma te l'hanno detto che c'hai degli occhi bellissimi? Sì, molto.